Stefano De Martino cresce a Torre Annunziata. Muove i primi passi nel settore della danza all'età di 10 anni. Nel 2007 riesce ad aggiudicarsi una borsa di studio a New York, presso il Broadway Dance Center, grazie a cui ha l'opportunità di entrare in contatto con la danza moderna e contemporanea. L'ex ballerino di Amici ha sempre covato un debito di gratitudine nei confronti della conduttrice, e in passato ha ammesso, se faccio quello che faccio, è solo grazie a Maria. E, secondo Davide Maggio, la first lady del Biscione sarebbe pronta a rinnovare la stima per il suo pupillo sotto agli occhi della nazione. Stefano De Martino pensa in grande si legge sul sito per il suo Oneman Show, in onda su Rai 2. Ospiterà un notissimo personaggio, nonché suo pigmaglione. Davide Maggio è in grado di anticiparvi la presenza di Maria De Filippia da Natale a Santo Stefano, in onda il 26 dicembre in prima serata su Rai 2. L'analista televisivo ha poi riferito. La conduttrice si è concessa un'incursione in Rai per riabbracciare il ballerino lanciato da Amici, e ha ragionevolmente ipotizzato pochi minuti che potranno fare da volano per l'inedita operazione targata De Martino.